ItalyTravelLab.com alias Francesca Tamarazio, da Chieti, dunque dall'Abruzzo a Rimini. Rimini innanzitutto già la conosci? La conosco ma sicuramente ho bisogno di viverla da più vicino, sono anni ormai che non la vivo anche a livello di patrimonio culturale, sicuramente c'è sempre da scoprire qualcosa quindi è una meta attualissima. Io racconto i miei viaggi, racconto le mie esperienze e nello specifico racconto anche quello che è il mio territorio. Io vivo a Vasto e i turisti ormai leggono le esperienze, leggono i racconti, si fanno emozionare da quello che si scrive su una destinazione piuttosto che un'altra e magari da quella lettura, da quel coinvolgimento emozionale nasce la voglia di scoprirla con i propri occhi. Come viaggiatore se dovessi leggere di una destinazione che mi ha particolarmente presa, coinvolta probabilmente potrebbe diventare la meta del mio prossimo viaggio. Come ti muovi prima di scegliere un albergo? Sicuramente online, sicuramente leggendo di esperienze, leggendo anche le rating, quindi da TripAdvisor ho i vari commenti, recensioni su booking, mi piace molto utilizzare, mi piace molto la filosofia di Airbnb, quindi generalmente bel and breakfast o appartamenti.